Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video In questo video vi faccio vedere come ho preparato il preparato per fare una tazza di cioccolata che sicuramente voi avete visto quando ho fatto il dolce con i biscotti e diciamo la cioccolata calda e ho deciso dato che lo dovevo rifare ho voluto fare questa ricetta per farvi partecipi anche voi di come la creavo io non mi ricordo da dove ho preso il quantitativo di questa ricetta non me lo ricordo quindi ho fatto l'anno scorso quello che avete visto nel video del dolce e vi rimando alle dosi praticamente sono scritte sotto nel box informazioni e sotto anche al box del dolce per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video che non so quando esce ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.